le video notizie di distribuzione moderna con nicola cassoli di rch scopriamo le novità dell'azienda rch x market e rch pay le chiedo di parlare di rch x market quali sono le caratteristiche di questo servizio rch x market è il primo marketplace in europa applicato a sistemi registratori di cassa di registratori telematici tutto deriva dal fatto che nel 2019 tutti i registratori di cassa presenti in italia nel commercio italiano i pubblici esercizi sono stati trasformati in strumenti telematici quindi in grado di connettersi in rete di ricevere informazioni dare informazioni ricevere servizi e fornire servizi quindi rch in europa ha pensato a un'applicazione per i titolari di questi registrati di cassa quindi commercianti pubblici esercizi è un'applicazione del tutto simile a i marketplace che siamo abituati ad utilizzare con gli smartphone quindi un'applicazione che rende disponibili un set una gamma molto ampia di servizi per aiutare il negoziante nella sua attività quotidiana in particolare abbiamo pensato ad attività e servizi che possono aiutarlo ad aumentare la perdonanza ai negozi piuttosto che offrire servizi nuovi aggiuntivi ai propri clienti quindi ai consumatori per cui di fatto x market è il primo marketplace dedicato ai registrati di cassa pensando ai negozianti come attività commerciali che indubbiamente hanno bisogno di innovazione di proporre soluzioni ai propri clienti e perché no attraverso uno strumento come registrati di cassa di cui tutti sono dotati e che appunto oggi è telematico quindi in grado di connettersi offrire loro una gamma di servizi sostanzialmente infinita RCH ospita in x market molti partner che consentono quindi l'accesso a servizi di varia di varia natura e rende quindi fruibili questi servizi attraverso appunto il marketplace Allora invece passiamo adesso a parlare dell'altra dell'altra novità e quindi di RCH Pay allo stesso allo stesso modo di che cosa si tratta quali sono le caratteristiche principali le funzioni di questo prodotto di questo servizio RCH Pay è il sistema di pagamento elettronico di RCH RCH da 53 anni fornisce strumenti per la gestione del punto casa quindi diciamo i nostri clienti che sono abituati ad avere da noi degli strumenti per gestire il momento del pagamento nel termine di ogni esperienza di acquisto in prossimità e per completare questa esperienza abbiamo creato un sistema di pagamento elettronico si chiama appunto RCH Pay totalmente innovativo perché consente sostanzialmente di far diventare un post di pagamento il proprio cellulare abbinato al registrato di cassa RCH quindi è una app quindi di fatto RCH Pay è una software si scarica l'app gratuitamente su qualsiasi device Android e trasforma questo device in un strumento di accettazione di pagamenti elettronici connesso alla cassa cioè in modo da integrare la funzione di pagamento alla funzione di registratore di cassa. I nostri clienti quindi gratuitamente possono avere questo strumento che ha alcune grandi novità e alcuni grandi vantaggi indubbiamente quello di essere gratuito quindi non ha alcun costo se non le commissioni che pagheranno nel caso di utilizzo e quindi nel caso di accettazione di pagamenti con RCH Pay poi può avere praticamente infinite attivazioni all'interno dello stesso negozio che puntano alla stessa cassa quindi un registratore di cassa RCH può essere connesso a sostanzialmente infiniti device Android che a loro volta possono essere attivati come post di pagamento digitale all'interno del negozio per cui non si hanno limiti nel numero di post che il negozio possa gestire. Un altro grande vantaggio è che consente essendo collegato a uno smartphone spesso a un tablet di accettare pagamenti in mobilità quindi posso accettare pagamenti in qualsiasi parte del negozio ma anche fuori dal negozio in qualsiasi parte della città o ovunque io necessiti di effettuare un incasso quindi di accettare un pagamento elettronico posso utilizzare RCH Pay che è sempre collegato ovunque si trovi al registratore di cassa del negozio o dei pubblici esercizi del ristorante quindi si tratta di un'evoluzione tecnologica che aiuta ad abbattere le barriere come l'hardware destinato a questo tipo di funzione dei pagamenti, connessioni con fili diciamo viene tolto tutto e vengono abbattuti evidentemente anche i costi relativi a tutti questi device dei quali il negoziante può fare a meno soprattutto offre una possibilità di utilizzo dello strumento di pagamento sostanzialmente illimitato né nello spazio e anche nel numero di device necessari inoltre è totalmente integrato ai sistemi di cassa RCH quindi non necessita il pagamento di ulteriori operazioni sulla cassa ma semplicemente con i posti e la cassa si pagano automaticamente e accettano il pagamento dei nostri clienti finali, del nostro consumatore